Quando si vuole smontare il foil bisogna posizionare la tavola sotto sopra con il foil che punta in alto verso il cielo. Partiamo svitando le viti dall'ala frontale. Bisogna tenere l'ala con una mano per fare in modo che questa non cada quando svitiamo le viti. Dopo aver smontato l'ala frontale si può smontare il stabilizzatore. Molti stabilizzatori hanno l'attacco delle viti che puntano la tavola quindi dobbiamo stare attenti a non far cadere le viti sulla tavola. Se vogliamo possiamo lasciare la fusoliera attaccata al mast ma è consigliabile staccarla per pulirla e fare manutenzione. Infine svitiamo le viti della piastra così da liberare il foil. Così abbiamo smontato il nostro foil dalla tavola.